Sabato è prevista la tanto attesa manifestazione a favore dei lavoratori della Treofan. Una vera e propria mobilitazione generale. Ieri pomeriggio i sindacati si sono incontrati al centro sociale per mettere a punto la giornata di protesta. Con un volantino le RSU, la CGL, la CISL e la UIL hanno invitato tutti a partecipare. Sabato 19 gennaio 2019, all'ora 9.30, in piazza Mendola, Battipaglia, ci sarà una mobilitazione unitaria a sostegno dei lavoratori della Treofan di Battipaglia e della loro dignità. Lavoratori, studenti, commercianti, professionisti, anche i centri vicini, istituzioni locali, rappresentanti politici, tutti devono sentirsi parte di questa battaglia che non possiamo permetterci di perdere. Infine l'appello. Non accetteremo un colpo durissimo all'economia del nostro territorio, compromettendo la sicurezza e la stabilità delle future generazioni. Grazie.